7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this new crazy mother... Ciao a tutti e benvenuti nel canale Mox Accetto, io sono Jason, sono qua, ci vediamo un altro video Allora, il prodotto di oggi è un confezione regale della Jack Daniels, è un'edizione limitata è una forma un po' strana di una custodia e poi una chitarra Usandola, non so se è fatta in pelle ma ha l'odore di pelle, ma non so se occorre forse io nico pelle Comunque qua davanti, stampata davanti abbiamo Jack Daniels, poi abbiamo il numero 7 Qua di fianco abbiamo due laccette come una custodia di una chitarra, è vero Poi abbiamo una maniglia qua può trasportarla in giro se volete Qua dietro abbiamo un po' di storia della collaborazione tra Jack Daniels e la musica se volete escuto in inglese se volete leggerci un po' di queste storie qua stampato dentro la pelle una confezione molto carina, molto originale come detto è un'edizione limitata, non so quanto durano queste confezioni lascio lo link sotto, l'avevo preso su Amazon è un'offerta Comunque adesso la apriamo adesso la apriamo con le laccette così ti faccio vedere cosa c'è dentro si apre così qua abbiamo un bigliettino volendo che si può scrivere sopra magari una dedica a qualcuno se devi regalare a qualcuno anche questo è fatto in pelle qua abbiamo un tappo in più la forma di diciamo la parte sopra di una chitarra che quando tiro via il tappo della bottiglia si può mettere questa qua adesso te la faccio vedere è tutto fatto in metallo con scritto Jet Daniels si, davanti e dietro la mettiamo qua e la bottiglia dentro è quella classica non la tenere anche fuori adesso non so se devo regalare questa confezione a qualcuno giusto per far vedere comunque la confezione è questa adesso ti faccio vedere un attimino giusto per far vedere questo tappino su un altro bottiglia che avevo già aperto questa è una bottiglia che c'è dentro identica a quella originale adesso la mettiamo a parte come vedete e alla fine si va su così va bene come un regalo magari anche per Natale è un'ottima confezione diciamo come ho detto è un'inizione limitata adesso sono ancora disponibile su Amazon se siete interessanti vi lascio il link sotto comunque se avete trovato questo video utile metti mi piace iscriviti al canale poi ci vediamo al prossimo video ciao ciao